Dopo due giorni di questa esperienza di vaccinazione protratta fino a mezzanotte, possiamo dire che i risultati sono più che soddisfacenti, il flusso è stato veramente notevole, le persone sono state molto soddisfatte perché abbiamo dato loro la possibilità di accedere alla vaccinazione in un orario al di fuori di impegni di tipo lavorativo. Le richieste sono state veramente tantissime, la provenienza da tutta la provincia ed oltre. Questa è testimonianza che forse potrebbe essere una formula vincente che noi abbiamo voluto sperimentare e per la quale i fatti ci hanno dato assolutamente ragione e quindi valuteremo con i vertici della ALS se è un'esperienza che potrà essere replicata anche nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Dalle 15 fino alle 24 abbiamo vaccinato in due giorni oltre 400 persone e tutto questo è avvenuto grazie alla collaborazione di tutti quanti loro che sono i volontari nostri della protezione civile con una sola postazione vaccinale. Per cui stiamo pensando e valutando di raddoppiare almeno la linea di vaccinazione. Se avremo la giusta e continua fornitura di vaccini sicuramente potremo fare dei numeri importanti e magari contribuire a rendere la nostra ALS al più presto una ALS covid free.